Oggi è 5 agosto ed è lunedì, lunedì 5 agosto, siamo in piscina, io già mi sono diciamo bruciata e vabbè ieri non abbiamo vloggato perché mi abbiamo fatto un cavolo, veramente un cavolo Io sono albino quindi non mi ho bruciato Non è vero che stiamo a me Anzi i albini non possono stare a te Davvero? Ragazzi è una battuta, ironia non è Ah ok, no E stavo pensando perché no E comunque ci stiamo divertendo, abbiamo fatto un gioco aperitivo Ora siamo venuti qua in questa zona di ombra che mi ha voluto così per mangiare C'è la catunica Sì, per mangiare E abbiamo mangiato un panino ciascuno con salame napoletano Io gli sono preso tanto di quello là al prosciutto perché io amo il prosciutto Io volevo fare compagnia con lui e quindi ho preso anche il salame napoletano Buona Io ho preferito lasciarlo a mio padre in caso qualche in urgenza o qualcosa, non dica mai Per lui non lo so qui Qualche urgenza Qualche urgenza Si deve fare qualcosa Si deve fare qualcosa Si deve fare benissimo come a casa Infatti Proprio lo so E quindi io ho lasciato la macchina e ho detto vabbè miei compagni lì e ciao E insomma una bella piscina L'acqua è stupenda Io gioco aperitivi, le animazioni sono stupaticissime A mia nognano Ma ci stiamo divertendo comunque abbastanza Noi abbiamo portato le carte per giocare perché la mia dolce metano non le piace giocare a carte Lei odia giocare a carte perché sa che io sono un po' bravo e quindi ha paura di perdere Questa non lo so Stavo schizzando E niente Lei è ricoperto di crema Non potete ritirare la mia mano? Aspetta Fai vedere Ok Sto cercando di inquadrarvele la mia schia Se l'ha buttato tre quintali di crema perché è brutto a prima Faccio subito rossi infatti per qui Da poterlo mettere urgentemente anche qui la crema Perché l'ho messo semplicemente Ho messo anche la protezione 50 Semplicemente che la mia bellezza è questa bellissima cosa di bruciarsi E poi tenere la bronzatura Quando si trasformerà in una bronzatura Tipo fuori fino all'anno prossimo Mentre la mia invece Di bianco è bianco rimane No io non sono bianco Io mi divento ambrato Ma perché io mi sono dato una protezione anche più bassa della sua Lei se l'ha dato troppo alta come una protezione Quindi è più facile si scolti Io mi sono dato più bassa Amore no la protezione più alta non serve per scoltarsi Non lo so No amore Perché dici stronzate? Ma poi dici perché io lo riprendo ogni due secondi Grazie O dici stronzate o fa stronzate Vabbè lasciamo aperto Deve sempre fare così Sembra quasi meno drammata Non sono meno drammata Un corso d'arte L'ho già fatto Teatrale Sì ma vero teatro Ah vero teatro Non mi ricordo quando è continuato quest'altro Allora io No aspetta L'ho fatto anche teatro Amore Ecco perché sei così meno drammata L'ho fatto teatro Infatti Ci ho fregato Per questo è così meno drammata Però se vorremmo anche teatro e adesso professionali noi no No vanno da scuola loro Vanno da scuola da loro Ho detto sono professionali Noi no Grazie Ognuno Non è il fatto solamente della protezione È che lei si brucia molto Semplicemente come lo potete vedere Se hai dato tre quintali di protezione Me l'hai messa tu È uguale ma anche me l'ho dato anche prima Sempre sulla schiena Eppure si è diventato proprio solo scherzo E grazie Quindi vuol dire che lei assorbe la protezione Assorbe la protezione che trova No e quando si va nell'acqua la protezione un po' si leva Dopo prendiamo quella spray Abbiamo capito quella di resistere l'acqua Ma è per i bambini Ecco perché la lo sei portata Certo Per questo? Certo Ma davvero? Alla protezione per i bambini apposta Resiste sia la sabbia Che vabbè qui non c'è la sabbia Davvero? E sia l'acqua Sì È stupido Amore non fare più questo È stupido È stupido È stupido L'importante è farla ridere Ricordatevi ragazzi Se la vostra donna ride Vuol dire o che vi vuole uccidere O che pure vi piacete di tanto che vi darebbe qualsiasi cosa Anche il bacio Faccio divertire la nostra donna E questo è il nostro rocco Quindi oggi ci annoiamo un pochettino in piscina Cinque minuti quasi sei Vi parlai di piscina Comunque stasera non penso che si farà qualcosa Per questo stiamo registrando adesso No è perché Noi siamo Sicuramente quando torneremo Saremo molto stanti Sì Quindi ce la vogliamo Ma dobbiamo fare un video quindi Ce la vogliamo un pochino spassare Un pochino stare a casa Vogliamoci riposiamo un po' Vabbè a parte che stasera faccio il video Sì Ha fatto un video Non mi dico quale Tu si sta risentando col dubbio Quale ho fatto quel giorno Se non ti guarda Mi vuole fare un po' di scioglie Lei mi mando spesso a fanculo Questa cosa a me mi va benissimo Perché è proprio quello che voglio Essere mandata a fanculo Non mi la gaffa più o meno Certo Lei sa però che se li pigi Dici non glielo stronco Non lo farei mai Però se volessi farlo Ecco Guarda i sguardi mi fatti Non ti batto Non mi ha fatto la cara di sguardi Certo Ti ha sceco Ma quel paese E io mi stavo fatto un ucciso Grazie Grazie Hai fatto così Mi metti le dita negli occhi Normale gli chiudo gli occhi Ehm Direi che Prima o poi ti farò male Prima o poi ti farò male Sì tanto male Ti posso buttare l'acqua sulla Tanto gli ci stanno le scale Ti butto Se mi butti nell'acqua sì Sì nell'acqua ti butto Sì però io ti porto con me No Eh sì Eh sì Sogna No Allora No No Tu casco anche io Eh Se casco io Casco anche io No E ti preoccupare No Sì 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 In quello che ti toccisci Non è che ti toccisci Non è che ti toccisci il naso Da solo Spesso ti tocca rifarlo Un vero amore E questo è il nostro vlog di oggi Eh sì Quindi ci vediamo domani Ci vediamo alla prossima giornata Buongiorno Buongiorno Oggi è l'ultima giornata che sto con Francesco Tra poco si parte che si va a prendere l'autobus Oggi forse vloggerò un po' di più E ci vede con delle facce Vedi che pure io ho gli occhi rossi ora Questa è la mia stanza Si è molto ordinata Tantissime E il caricabatterie Vieni qua Vieni qua Aia Aia Vedete qualcosa? Ieri non l'abbiamo ripreso Questo è vero E Non l'abbiamo ripreso Perché è successo una cosa Purtroppo Vuoi dire qualcosa? No Volevi parlare Ok Poi ci farò un video Tipo apposito Va bene Così spiegherò Cosa è successo Perché in questo momento Non va a lui E non va a me A parte che in questo momento A me fa ancora male qui Qualcuno penso che Può capire Cosa è successo A lui per un tot Gli ha fatto male qui Giusto? Da qui che ti faceva male Fai male male? Scusate per l'interruzione Ma Francesco doveva fare un attimo Un audio E comunque era questa zona qui Che gli faceva male Come ha detto E invece a me fa male Tutta questa parte qui E tra poco si parte Cioè Partiamo io e lui Andiamo a Roma E poi Lo accompagnerò a prendere il treno E da Roma andrà a Firenze Da Firenze Non so chi lo aspetterà Secondo me sia la madre che il padre Per quello che è successo Però Vero? Sì Molto probabilmente Molto probabilmente Sì Amore Ce l'ho pure io Rossi gli occhi Perché abbiamo dormito poco Abbiamo dormito Neanche quattro ore Ti hai dormito Neanche quattro ore Amore Amore Mettendo che sei andato Tornato a letto alle due Tu sei andato a letto alle due Quando sono tornato io Mi sa che erano le mezzo Eppure siamo tornati insieme Però se pensi alle due Io dormivo subito Io no Io mi sono fatta veramente Il giro da poco della stanza Sono contenta Ho pianto per tipo un'ora Bene E E questo in pratica Lei fa questo Mentre io no Vabbè Tu no Però Se ne vanno Poi o meno Sì erano due Perché amore Era l'una e mezza Che stavamo ancora giù Anzi L'una e trentadue Che stavamo ancora giù Quindi sì Più o meno Erano le due Non ho dormito Dovente mi sono dormita Stamattina in pratica Infatti l'ho detto Sono stanchissimo E penso che si possa sentire Anche dalla voce Mi sono stoccata malissimo Ho ancora la matita per gli occhi E non è normale Che sto Leggermente così Però Vuoi dire qualcosa? Che faccio? Ah sì Una cosa Che faccio? Se avete un amico Che mi rompe coglione A volte Ma date l'affanculo E fine Ciao Perché Perché se no Fate la mia stessa fine Mi incazzate per niente Fine Poi dopo gli dirò Quello che è successo A questo amico Perché è un amico In comune Lo sta sassando Non sa un cavolo Semplicemente perché Ha chiesto di uscire E sicuramente Vedrà questo video Perché so che Vedi i miei video E sono Che lo vedo Che non lo vedo Guarda Non è un'offesa No Non è un'offesa Solo che Ora non è il momento E non ti posso dire Che non è il momento Perché non è una cosa Che comunque Ti dovrebbe interessare E anche se fosse una cosa Che ti dovrebbe interessare Non sono cazzi tuoi Quindi non è proprio il momento Ora Quindi capiscimi bene Se ti urlano il viso E capiscimi bene L'occhio Non ti rispondo Però non sa perché Non sa che cosa è successo Ma è uguale Ma non lo deve sapere Perché non sono affari suoi Vabbè Io tra poco scendo Per andare a fare regolazione Io scendo con te Mi sa che mi sono dimenticato Di metterti il coso di succo In frigo Non importa Lo bevo anche a cardo O anche a freddo Com'è Mi interessa Per il succo Fine Se c'è il succo Se non c'è il succo Non bevo nulla In frigo Non è fine Ok Ci vediamo più tardi Comunque Siamo in autobusso Già Non so come mi è andato Ma Già Più tardi Sicuramente Questa sera Mi vado a respirare Perché mi fa ancora amare il collo Però per me Sì Sfortunatamente Ho un botto di libidi Sì E quindi E quindi Noi stiamo praticamente Andando alla volta Di portina Sì Di portina Quasi la metto su tre Poi devo aspettare quattro ore Di prendere l'altro Posso scendere E si divertirà un po' Che fanno Lascia Facciamo le cose Ho detto Lascia 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 Non colla Eh Puntoppo Mi mi tocchi Quasi mi faccio male Mi sta prendendo No Mi faccio male Vedete Allora Quello che succedeva Un paio di mesi fa Era che quando Eravamo a casa sua E ci divertivamo Come stavamo insieme O anche fuori Noi mi davano Di porti Talmente lunghi E talmente appassionati Non so più baciare Che finivano dopo Tipo un quarto d'ora E io avevo tipo L'ora perché facevano Metterei Adesso faccia così E non ha mai voglia E non ha mai voglia Di baciare Non ha perso la pratica Io Non ha perso la pratica Perché l'avevi prima Quando stavamo Tutti due Pratico sì Actualmente no Però c'è Un piccolo problema Che lei Visto che io non la rivedo Per almeno Più di tre mesi forse Non potrà più avere un bacio E lei adesso non li vuole Cioè vi renditi conto Amore mi fa male il collo Mi fa male il ginocchio La pancia Un po' di sotto del ginocchio Che penso che sia la gamba Un po' di sotto del ginocchio E per la gamba Non qui Sei un genio Qui che c'è Qui? La gamba è tutta Questa parte qui che cavolo è Coscia è questa Questa è cacca Mo te lo dico E mo Comunque Quel tetto è di sotto Del ginocchio E praticamente Lei adesso mi sta guardando male Perché io la volevo Baciare un'altra volta E mi faccio male Devi stare così E io Ma comunque mi devo muovere No guarda Tenta i fiebre Così Tenta i fiebre Tenta i fiebre Tenta i fiebre Muovi solo la bocca Vedi come mi devo muovere E vedi Non muove la lingua Non mette neanche la lingua Ma non Che tipi Che sapete Usa la lingua Comunque Siamo trappati sotto Non importa Stiamo morendo dalla voglia Entrambi Di tornare a casa Forse si Però Io mi sono divertito molto Ho fatto ciò che dovevo fare Con la mia ragazza Mi siamo divertiti A fare le due ore insieme A fare le challenge Non sono tuore Allo video Lo so su come Baciare Questo è un tuore Allora abbiamo fatto Il vlog settimanale Che verrà spezzato sicuramente In 3-4 parti Forse anche in più Non lo so Poi abbiamo fatto Un video alcolico Con lo splits Poi abbiamo fatto La kiss challenge Che Io vi farò scegliere a voi Chi avrà vinto Perché io ho qualche dubbio Che ho vinto io Però E poi forse caricherò un video Anch'io Un certo video Birichino Che qualcuno Non sa che ho girato Però va bene Un video notturno In cui la mia ragazza Stava dormendo Se lo volete vedere No Spolliciate No Non è la mia Arriviamo Ma forse la mia Sì Eh c'è E già Ma non è la posture Non importa Lo posso caricare Sul mio canale Hai visto il tuo canale? Scrivi la mia fidanzata Come dorme Sì Come dorme E come russa Grazie Mettete Almeno 3000 mi piace E Tra l'altro Vi farò vedere questo video E Musseria Cioè per vedere Semplicemente Me dormire E voglia E anche 3000 anni Amore Come dorme E come russa Lo potete prendere Poi che culo Dovunque Non puoi aver visto quello O forse un video Di qualche altro tipo Lo scopriete Solo Mettete Alla prossima E ciao Non ho finito Ciao Ciao Grazie.